a volte stare alti ti dà un vantaggio nei confronti dei pesci riesci a individuarli meglio è il caso di questa trota che abbiamo visto bollare in una piccola pozza al di fianco del fiume antonio sta andando giù tenterà un approccio di spalle la trota gira è una di quelle che non di quei pesci che si muovono e nuotano anche punti diversi bollano e poi tornano nel punto iniziale vediamo come andrà a finire a 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